Quali sono le indicazioni di questa seconda partita? Abbiamo migliorato la velocità di palla, l'attacco alla porta, infatti i nuovi golli lo testimoniano e più l'applicazione, con una squadra superiore di categoria rispetto a quelle di, non mi ricordo quando abbiamo giocato abbiamo fatto molto meglio, è uno step ancora, però da qui arrivare al campionato non abbiamo ancora tanto tempo da lavorare sono contentissimo di quello che stiamo facendo, prima perché non c'è infortunati, a parte il ragazzino che si è fatto male nella partita e credo che questo sia già un bel viatico per proseguire il secondo ritiro che andremo a fare da un'altra parte e mettere benzina per il campionato. Questa prima parte del ritiro che cosa le ha detto in particolare? Che è una squadra, e sapevo, è per questo che sono rimasto, che ha voglia di lavorare, che ha voglia di migliorare che ha voglia di rendere orgogliosi i propri tifosi, la propria società nella fatica ci stiamo e questo penso che sia la cosa più bella poi le giocate che stiamo facendo rispetto all'anno scorso giochiamo un po' più di velocità.